Ciao a tutti, siamo in diretto sul Milan Point, appena gemellati con i tifosi di Napoli, grandissimo, bellissimi, prezzi alti, di cui sono dei prodotti ottimi, anche se il prezzo è alto ne vale la pena. Quindi dobbiamo sempre seguire, sempre a punto, ok, qui c'è gente dappertutto, siamo qui all'interno, guarda, pure i caschi Milano, così via, bellissimo, questo è il Milan Point di San Siro all'interno, guarda, fantastici, bellissimi, ok, ci siamo, guarda, guarda, stupendo. Mattia ci sei che fra poco andiamo a sedere in tribuna, ci siamo, gli eventi ci sono, eccoli, ragazzi siamo in diretta, siamo dal vivo, ok? Tra poco usciamo, ok ragazzi ci siamo, ci siamo, tra poco iniziamo, guarda il grande capitano, un saluto al nostro capitano, qui oppo, lì c'erano i grandi, ho già sento qualcosa, dove sono andati gli amici napoletani, sono spariti? Eh? Niente ragazzi, dai ci sentiamo fra poco dal vivo, in diretta, su Forza Mila ovunque, Mila Napoli, ok? Qui siamo già carichi, già super carichi, va bene? Noi usciamo, perché qui, ok? Ciao a tutti, va bene? Andiamo fuori, salve, oh guarda le casse, guarda le casse, ciao a tutti, eh mi raccomando, ci vediamo all'interno, ok? Ciao 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 a tutti, dai la prossima diretta, ciao! Siamo in diretta, stanno per entrare, 4, 3, 2, 1, dove sono? Sono sparito, bravo, ci siamo, ci siamo ragazzi, siamo in diretta, dai saluto, stanno dietro la porta ragazzi, porto, fai forza, porto diabolo, questo è il bandiera ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, eh porco gli anni, eh porco, bastardo, non so che chi cazzo ce l'avete, guarda, sono arrivati, sono arrivati gli scoppiati di merda, sono arrivati i napoletani, ed eccolo, il futuro portiere, vai, dove sono, dove sono, sono sopra, ricordo la diretta su Instagram, magari vari pezzettoni, ma saremo in diretta, ok? Perché su YouTube purtroppo dei problemi nella frequenza, io spero ragazzi che si vede bene, lo sto commentando, ditemi qualcosa, dai mi raccomando, oggi è importante vincere, ma vincere è importante, ciao Matteo, sarà sicuramente là in curva, ok? Dai si stanno calmando, spero che non vieni giù, il cielo è nero, dai ci vedremo più tardi per la diretta, nell'entrata dei giocatori, ok? A dopo, mi raccomando, seguiteci, ciao a tutti, a dopo, più tardi, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, Reina sperando, va bene, a dopo, a sentirci dopo, ciao, 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 a dopo. Ma questo è il giusto, è sempre come vuole lui? Eh? No Matteo, questa è l'inquadratura, guarda, io non so dove sarai, sicuramente sarai sopra queste bandiere verdi, sicuramente. E' il posto giù! Eh, ecco, è sempre qualcuno che mi passa davanti, di dietro, eh? E' il posto giù! E' il posto giù! E' il posto giù! E' il posto giù! Oh! Oh! E' il posto giù! E' il posto giù! Tu Mattia, riprendi sempre, eh? Oh! 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 il palo aggiornse il calo la nascenza il calo GONOB��� shalamaka che Digo nel ragazzo il calo indiy forte il vicino 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 Grazie a tutti. Guarda Mattia, ci siamo quasi. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza. C'è pure lui. Ma come si vede? Ciao. Grazie! Grazie a tutti. 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 Buona partita a tutti. A dopo. Grazie a tutti. Forza ragazzi. Forza. Forza ragazzi. Forza. Forza ragazzi. Vai. 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 Tira. Vai. 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 Forza ragazzi. Da calcio. c'è. Vai. vai. Forza ragazzi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, l'abbiamo tirato. No, no, no. Vai. No, 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 no. No, 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 no. dai dai portogliani dai dai porta i piani le porto ragazzi è possibile, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi che cross, un cross decente che cazzo ha fischiato, ma sei un bastardo, ma che cazzo ha fischiato, ma sei un bastardo sei, ma sei un figlio di puttana, cos'è che ha fischiato bastardo, bastardo ragazzi, è finito il primo tempo con l'annullato abbiamo fatto un po' schifo, ho detto la verità ho dei problemi di connessione qui si vede che chiudono parecchio la linea, non ci vogliono far fare la diretta va bene, mi raccomando speriamo porto di quella eva di vincere qualcosa, perché i tre punti abbiamo bisogno qui facciamo proprio cacare, al di là del con l'annullato e così via, facciamo proprio cacare dai, vediamo se riuscirò a mandare dei pezzi in diretta, se riuscirò a mandare perché ultimamente non si vedeva, mi chiude il segnale ok ma speriamo non so se riusciamo a fare qualche diretta quindi così forza ragazzi forza, forza, forza forza qui qualcuno sta mangiando qui ci beve, il gelatino non si può adesso il Napoli attaccherà sotto di noi nella nostra curva qui è la curva sud con le belle brigate le belle vecchie brigate di là di là ecco qui la grande fossa delle Onze che negli anni 80 e 90 era bellissima questa fossa capito? eh vabbè vabbè dai vabbè 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 dai ciao a tutti eh allora teneviti in diretta all'uno vabbè va bene ciao eeeh ci hanno rubato un gol che guarda ancora piange vendetta, piange porco di quella zozza vai che stanno entrando i ragazzi vai che stanno entrando i ragazzi forza ragazzi forza eh vai perché la gente comincia a sedersi dai dai si si tutti giù tutti giù tutti su venga oh ci sono andati da Napoli i napoletani dappertutto seduti dai che mi togliete la diretta seduti seduti c'è un cambio a dopo anni α ichter la grande fossa prendono delle battaglie con le brigate non ti dico forza ragazzi forza ragazzi vogliamo questi tre punti forza ragazzi forza bastardi oh marchiamoli portoglia marchiamoli dai 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 che giochiamo a tiro a piattello qua si madonna li deve andare a prenderli però eh bravo 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 dai 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 ma svegliamoci abbattiamoli tutti ma che cazzo fischi porco di quella puttata ma vai a cagare vai pezzo di merda vai 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 non ho capito cosa fischiato sto scoppiato madonna esci 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 bestia vai a mia sorella la diamo eh ma se qui non scappo un gol per il mila la mia pagina oggi muore era ora che parasse qualcosa sono scoppiato di merda 7 milioni prendo stommettoso dai 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 ahhh si ha raffaro un cazzo io ne ho capito che è il giro 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 dai 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 perdiamo sempre i palloni perdiamo ma vaffanculo c'è un altro campo grazie ma vai il pira che sta bevendo ma vedi andare a fanculo va te hai 7 milioni pezzo di pirla dovete andare a fanculo hai fatto un cazzo fino adesso hai fatto dai forza ragazzi forza che manca 10 minuti 10 minuti più recupero guarda che adesso c'è un angolo forza ragazzi forza forza ragazzi forza forza ragazzi forza ragazzi dai dai crediamoci dai ragazzi dai questi tre punti vogliamo se dobbiamo credere nella Champions andiamo a prendere le fave anche il prossimo anno andiamo a prendere le fave porca puttana porco quel nannerottolo bastardo porco cane porco si spazziamo via la palla vai porco diamine spazziamo via la palla che cazzo è successo qua eh dai dai figa come se il pallone scotta appena abbiamo il pallone dai 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 figa veramente ci vogliono due o tre elementi non c'è un cazzo da fare il prossimo anno se non metti due o tre elementi qui non andiamo nessuna parte non andiamo dai dai rimessa dai bastardi dai 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 allora guarda 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 sta a fare cazzo vai occhio dietro si spazziamo sempre la palla spazziamo andiamo andiamo si va a buttarla stiamo guarda guarda occhio prendila eh vai la presa ma che l'ha presa guarda a te che cazzo stiamo combinando dai 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 e dai butta la tira no papà è un affare in culo ma che cazzo di piedi a banana no angolo 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 scusate ma è angolo pensai che era un tiro a banana ma è un angolo è un angolo è un angolo speriamo sotto la nostra curve guarda la grande fossa dai ragazzi dai crediamoci guarda 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 il pallone mattia il pallone dov'è di nuovo angolo che cazzo sto guardando guarda 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 speriamo tutte queste scritte non vedo un cazzo stiro no dai ancora angolo dai forza forza all'altra parte all'altra parte angolo all'altra parte dai 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 forza ragazzi forza no ancora eccolo dai che prima o poi un cazzo in culo ne te lo mettiamo no e che cazzo sti ciucci no dov'è copi di te oh oh dov'è scodiamo sempre rimessa loro un po' scodiamo dai manca sei minuti alla fine ragazzi sei minuti sei minuti alla fine dai dai un po' di cattiveria vai di sotto tira no no tira ma dai tira che cazzo no ma porca puttana manca il rimpallo niente niente sti bastardi porco diavi e dai e dai crediamoci porca puttana ciao a tutti vi saluto a tutti sono già nervoso eh chi sei stampato chi chi è che sei rubiamo la palla un bel contropiede ogni tanto non dico tanto eh ciao a tutti guarda che sono nervoso che qui porca eva non si capisce mai ieri dai crediamoci buttala e dai ballo cos'è cos'è dai 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 crediamoci dai e che cazzo ancora cambio fanno eh dai adesso ci vorrebbe un bel gol e mi esplode lo stadio qua dai bello i campi noi li abbiamo finiti dai dai credici dai buttala dentro buttala dentro grossa grossa susa grossa buttiamo dentro Borini buttiamo dentro qualcuno grossa tira grossa porco eccolo eccolo vai dai 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 ma quale fallo ma quale fallo ma cosa ha fischiato ma che ha fischiato il fallo è nostro o lo è nostro o lo di chi è il fallo eh ma cos'è è loro bastardi 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 sono proprio delle merda che cosa ha fischiato ci mirà dai quasi manca a fare due minuti più recupero oh capitano mi raccomande ma mi raccomande dai ma vai a fare il culo vai, a sto rigore di merda voleva, porco diamine porco, dai cartellino libera ora era, con minchellino voleva il rigore, voleva, porco diamine, la gente sta andando, qui sta andando, manca poco, manca ragazzi, manca esattamente, ciao, 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 ciao amici, c'è niente da fare, non ce ne va bene una, non ce ne va bene quando ha dato tre minuti di tre minuti di recupera di merda eh fischia sto cazzo ma mangia dove ho il fischietto mi hai rotto le p***alle mi hai capito ma tu la devi mangiare dove è andato dove è andato dove è andato che cazzo fai dai dai andiamo di sotto oh 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 dai spaccategli nella gamba no 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 meno male meno male porca puttana porca ma non ho visto che cazzo è successo qua ci sono andati figa porco ecco parto nel momento del filo non ho capito che cazzo era successe e siamo in diretta qua eh non ho capito un cazzo ma chi la farà ma dai ma dove cazzo la buttiamo sta palla la porto cane porco non ho capito niente era ora era che cazzo porco diamine allora alla parata allora la parata assieme eh te sei guadagnato i soldi hai capito te l'hai sei guadagnati pezzo di pirla porco diamine te l'hai guadagnati dai non l'ho vinto non l'ho vinto non l'ho vinto dai buona va bene un milione te lo sei portato a casa oggi hai capito e fischia tua sorella e fischia tua sorella fischia oh è tre di tutto niente ragazzi alla prossima è finito il 0 a 0 ci hanno rubato un po' è annullato bellissimo andiamo sotto Mattia eh etta che succede qua attestata si ho preso attestate eh eh si ho preso attestate qua eh non ti ricordo vincere 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 tetrico oh è fatto bene è fatto beh va bene dai a tutti buona domenica allora allora eh dov'è il palo 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 lo vuole dare dov'è il palo dov'è il palo vai ci vediamo il prossimo anno dai 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 ci vediamo il prossimo anno dai 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 Niente, ragazzi, ci salutiamo, ci salutiamo, alla prossima, forzamila sempre, ciao! E' merda, sono sopra, saluto a tutti, ciao, 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 forzamila ovunque!